E' stata una stagione in chiaroscuro per l'Atletico Sant'Arcangelo Calcio a 5, la prima squadra è purtroppo retrocessa in C2. L'Under-19 invece si è classificata al secondo posto nel suo girone ed è approdata per la prima volta nella sua breve storia i play-off regionali. Chiamiamo sul palco il presidente Daniele Brolli, l'allenatore della prima squadra, Salvatore Franchino, il tecnico della Juniors Giorgio Porta. Buonasera presidente, buonasera, buonasera ai due mister. Allora dicevamo una stagione in chiaroscuro ma ci può stare, non avevate festeggiato la promozione e poi ci sta che non si riesca poi a mantenere la categoria. In realtà abbiamo fatto un altro anno. Un altro anno e mezzo, sì. No perché comunque nel girone d'andata alla fine eravamo messi abbastanza bene, poi si è incrollati nel girone di ritorno per una serie di situazioni. Però vabbè abbiamo fatto domanda di ripescaggio, speriamo che ci ripeschino, ci sia rinforzati. In più diciamo che per il nostro sport abbiamo fatto una cosa abbastanza importante, nel senso che dal prossimo anno andremo a giocare in palestra che per il calcio 5 è il vero sport e speriamo di ogni anno crescere sempre di più. Parentesi importante è la Juniors perché per il secondo anno di Juniors arrivare subito nelle fasi finali e regionali per noi è stato un motivo di orgoglio importante. Abbiamo giocato con squadre come Forlì, CDR e Russi, siamo arrivati in secondi e fino all'ultima giornata ce la siamo giocata. Niente, è stato bello, è stato importante. Poi dopo nelle fasi finali con il Modena non c'è stata praticamente partita perché allora sono una società di un altro livello. Però è stata una soddisfazione, bello. Bello arrivarci certamente, adesso in effetti ci sarà questo salto di qualità anche con il fatto di poter lavorare in quello che è poi l'ambiente naturale del calcio 5. Speriamo, speriamo perché comunque il calcio 5 fino a un certo livello è vissuto all'esterno ma il campo all'esterno non è il vero e proprio ambiente dove si svolge. Già dalla Serie B è obbligatorio avere una palestra, anche dalla C1 avere un campo al coperto. Quindi per noi è un punto di svolta, vediamo, vediamo come va. Andiamo a sentire i mister, allora pronti per questa stagione con la speranza del ripescaggio? Sì, siamo abbastanza carichi, speriamo e crediamo nel ripescaggio e abbiamo costruito una buona squadra. È cambiata molto rispetto alla passata stagione? Sì, praticamente è mezza squadra nuova. Meglio visto il risultato nella seconda parte della stagione? Sì, lo scorso anno io allenavo l'Andre 19, quindi abbiamo iniziato questo progetto con loro in modo tale che quest'anno qui in pratica mi ritrovo ad allenare il gruppo dei giovani che abbiamo portato in su, più qualche innesto nuovo e la spina dorsale dello scorso anno e abbiamo messo su una discreta squadra. Perfetto, l'aspirazione per questa stagione? È quella di far crescere dei ragazzi per la prima squadra. Sarà un anno zero perché il ciclo è finito con l'anno scorso. Il nostro obiettivo è quello comunque sia di educare i bambini, i ragazzi a questo sport e cercare di farli innamorare per poi dopo essere utili a quella che è la prima squadra nostra. Perfetto, allora io chiamo nuovamente sul palco il sindaco di Sant'Arcangelo Alice Parma perché è il momento del calcio a 5 perché non vi fate mancare niente. Qui andiamo bene, col calcio a 5 andiamo bene. Ah vabbè, adesso sperando nel ripescaggio dai. No, però andiamo bene, una società nuova, giovani, capaci e da questo punto di vista gestiscono in modo importante un impianto e secondo me è un'operazione che rende onore alle società che nascono per un'esigenza e anche per un'attitudine. Cioè il calcio a 5 è riuscito a Sant'Arcangelo anche a tenere dentro lo sport quei ragazzi o comunque quei giocatori che non avevano magari più la possibilità di giocare a calcio, non avevano più la possibilità di tempo anche, non solo magari di capacità di potersi allenare e quindi insomma è una bella operazione questa. Benissimo, allora la consegna della targa dal sindaco al presidente Brolli, un applauso ancora all'atletico Sant'Arcangelo, calcio a 5. Grazie e buon proseguimento di serata.